Nell'anno internazionale delle foreste, tradizionale festa del WWF dedicata alle oasi, siamo stati a Fossoli di Carpi. Oggi è la giornata delle oasi del WWF, con Nelson Bova andiamo a visitare quella di Fossoli di Carpi nel Modenese. La formica è nata prima dell'uomo, quindi è comparsa molto prima. E tutto quello che l'uomo ha fatto, l'aveva già fatto la formica, dal coltivare, quindi coltivare in particolare alcune specie esotiche che coltivano dei funghi, all'allevare, l'allevamento degli afidi da parte delle formiche, fino anche alla creazione di pani, quindi di sostanze proprio derivate dalla mititura. Il tema messo in evidenza dal WWF quest'anno è la biodiversità. Chi meglio della formica, studiata e disposta per uso didattico all'oasi, la francesa di Carpi, rappresenta quelle macroscopiche differenze che noi fatichiamo a cogliere e che per semplificazione riduciamo a poche specie. La realtà delle formiche invece è molto diversa. Ne sono state censite dalle 16 alle 17.000 in tutto il mondo e solo in Italia ce ne sono più di 300. Oltre 100 le osi del WWF in Italia, tutte visitabili nella giornata mondiale dedicata appunto alle osi. L'organizzazione ambientalista rilancia anche un altro tema importante, quello della tutela dei boschi. In Italia le aree boschive sono un terzo del territorio, 12 miliardi di piante, 200 per ogni cittadino, minacciate ogni anno da oltre 9.000 incendi che danneggiano o distruggono 100.000 ettari di territorio. Un sms da 2 euro fino al 29 maggio al numero 45507 è l'appello del WWF per salvare... Martagaglia in Puglia, Foccio dell'Arrone nel Lazio e Lampredina nelle prealpi bergamasche, che è una riserva naturale molto importante. Grazie a tutti.